L'azienda si faccia carico di individuare una serie di correttivi, di implementazioni che ci possano fare ricredere, anche se quello che è avvenuto è molto grave, anche se il decesso della signora ha aperto, ha acceso i riflettori su una situazione che i cittadini, la commissione, il sindaco denunciano da tempo, quella di un territorio totalmente scoperto dal punto di vista della tutela della salute pubblica. Un passaggio sbarrato da delle sedie e poi un cartello più avanti che dice in questa sede il pronto soccorso è chiuso. Ecco che cosa resta del pronto soccorso del presidio ospedaliero Sant'Isidore San Giovanni di Dio di Giarre. Noi siamo venuti qui questa mattina perché la commissione ospedale è venuta ad effettuare dei controlli per verificare che non venisse ulteriormente spogliato questo punto di macchinari e soprattutto di strumentazioni. Ed invece così è stato, nonostante le parole del direttore dell'ASP che qualche giorno fa è venuto in visita qui a Giarre, Franco Luca, che aveva detto che sono state portate via soltanto delle barelle, in realtà manca qualcos'altro. Intanto sentite appunto il presidente Tania Spitaleri. Stamattina la commissione ha effettuato un sopralluogo nei locali dell'ex pronto soccorso. L'impatto oltre che visivo è stato emotivamente molto brutto perché la sensazione è di locali messi quasi a soccuadro, spogli privi di qualsiasi prospettiva. Abbiamo appurato che certa strumentazione dei monitor delle barelle sono state portate ad Acireale, trasferite all'osservazione breve di Acireale, così ci è stato riferito. Tanti codici rossi, tante le urgenze, le emergenze che si sono consumate dietro questa porta per anni e che ormai non ci saranno più perché tutto è stato dirottato invece nel pronto soccorso di Acireale. È una tristezza vedere naturalmente questi locali vuoti, spogliati anche dai macchinari, ma come giusto che sia perché ricordiamo un pronto soccorso che ormai non funziona più, che è stato ufficialmente chiuso dall'Asp il 27 di aprile scorso. Sentiamo ancora una volta Tania Spitaleri che però ci dice cosa succederà nel futuro perché è una battaglia ancora aperta per la quale si stanno mobilitando non solo esponenti politici ma anche tutte le associazioni del territorio. Lunedì incontreremo le associazioni che stanno facendo un lavoro di civismo a supporto delle battaglie delle istituzioni. Lo incontreremo lunedì mattina, lunedì sera il Consiglio Comunale e sarà incentrato prima di tutto sulla mozione che il Consiglio Comunale di Giarre ha scritto e voterà per dare forza alle azioni, in questo caso del Sindaco, nei confronti dell'Asp. Sarà un lavoro H24 che è quello che stiamo facendo perché chi ha le responsabilità se le deve prendere, chi ha dei ruoli deve rispettare, chi ha sottoscritto un accordo non può venire meno a quell'accordo. Abbiamo intenzione come Commissione, ci stiamo lavorando intanto, di scrivere una diffida da tempi nei confronti dell'azienda. Attendiamo che le parole, seppur bisbigliate, del direttore sanitario si possano tradurre in atti perché la responsabilità è loro, loro sono i tecnici, loro devono individuare le modalità per tutelare questo territorio.